ciao a tutti benvenuti nel mio canale oggi confezioneremo insieme la pochette blu che avevo già fatto il video del ricamo e oggi la confezione confezioneremo insieme allora ho preso due teli di ecco pelle 40 su 30 e anche due teli di fodera delle stesse misure tranne che uno dei teli della fodera aveva un po di stoffa in più per fare per piegarlo per farne una tasca che cucendola viene proprio rifinita senza senza troppe complicazioni questo è il telo con il telo della fodera con la tasca devo prendere la misura giusta con il telo della ecco pelliccia e poi piego il resto in modo che creo questa tasca mi aiuto con due spelline per fermare per fermare la tasca e dopo vado a cucire ecco la tasca cucita e stirata adesso cuccio insieme le due altre teli ho dovuto velocizzare il video perché non volevo che venisse troppo lungo e ho fatto anche le spiegazioni a voce venendo incontro a delle ragazze che mi hanno scritto che non avevano capito bene come ho confezionato l'ultima pochette che avevo fatto usando una borsa vecchia allora adesso passiamo alla cerniera e lasciamo un centimetro e mezza da tutti e due le parti ci aiutiamo con delle spelline e andiamo a macchina usiamo ovviamente il piedino per le cerniere e uso una spellina per sapere dove mi fermo insomma come punto di riferimento adesso ecco le due insomma le due parti che rimangono un centimetro e mezza da tutte e due le parti attacco l'altro telo nella stessa maniera facendo combaciare le cuciture potete fare dei segni se volete ecco la cucita la cerniera adesso giriamo il lavoro mettiamo il telo di fodera con la tasca sul diritto così vediamo cosa dobbiamo fare e poi giriamo lo attacchiamo alla cerniera in questa maniera ci aiutiamo con delle spelline facendo attenzione di lasciare il centimetro e mezza di cui avevamo parlato prima questo centimetro e mezza che lasciamo ci dà la possibilità di cucire senza toccare la cerniera adesso attacco l'altro telo sempre con le spelline e poi andrò a cucire con la macchina sono veramente passaggi molto molto facili adesso cucio i due teli di fodera alla pochette semplicemente togliendo le spelline è un passaggio che potevo anche non filmare però tanti di voi vogliono vedere tutti ecco dopo aver cucito viene finita bene adesso metterò i due teli di fodera insieme e gli altri due di ecopelli insieme e cucirò tutto intorno lasciando un'apertura per girare insomma per poter girare la pochette e poi andrò a cucire con la macchina quando arrivo vicino alla cerniera cerco di non passare con l'ago sulla cerniera fermo bene prima e dopo insomma prima della cerniera e dopo fermo bene e qua lascerò l'apertura e andrò avanti con la cucitura fino alla fine se vi è piaciuto il video mettete mi piace lasciatemi dei commenti sarò felicissima di rispondervi e poi andrò avanti con la cucitura fino alla fine e poi andrò avanti con la cucitura fino alla fine e poi andrò avanti con la cucitura fino alla fine